Bimbe buongiorno, presentazione della collezione delle bomboniere. Abbiamo pensato di fare una collezione proprio di bomboniere, sono 12 progetti, proprio una sezione dedicata alle cerimonie, battesimi, comunione, cresime, compleanni, cinquantesimi, insomma in varie occasioni le potete ovviamente sfruttare. Alcuni sono ideali anche come segnaposto, oltre che per bomboniera, o anche dei piccoli regalini, se dovete fare un regalino alle maestre a fine anno può andar bene anche una cosina del genere. Allora si parte subito con, allora premessa, questi abbiamo noi caricato sul sito tutti i colori che abbiamo pensato di realizzare per questi progetti, lì trovate il prezzo per ciascuna bomboniera. Nella bomboniera noi vi diamo il cartamodello per la realizzazione, dove ovviamente è previsto, in altri c'è il materiale fustellato con la descrizione, poi vi diamo il materiale, tutto il materiale che serve per la realizzazione, esclusi i confetti e il cartoncino, il bigliettino che poi ci metterete voi con il nome, insomma con quello che volete scriverci. Allora il primo progetto è la girandola, la sister mi dice farle vedere bene, un attimino perché sono tante, la girandolina ed è questa. Noi abbiamo fatto come colori, vi dico il costo viene 3,80€, il colore rosa che è questo, il celeste, il fucsia, l'azzurro, verde e arancio, questo perché ogni colore di feltro modellabile è abbinato al feltro brillante, quindi con 3,80€ voi riceverete a casa il materiale compresa la velina e il cartamodello per la realizzazione, per una, per ciascuna, per ciascun pezzo, ok? Quindi la girandola l'abbiamo vista. Allora si passa poi, visto che siamo qua, al gufetto. Il gufetto è sempre adatto per, qui questo va bene sia per maschio che per femmina, quindi va bene per i battesimi ma anche per le comunioni e le cresime e può essere anche un piccolo pensierino. Il sacchettino dei confetti lo potete mettere o da sopra come in questo caso, così che il ciuffetto esce fuori da qui, oppure molto bellino anche messo laterale. Il, eh, di questi abbiamo già preparato quasi tutti i tutorial, quindi li trovate caricati sul canale YouTube e, ehm, anche il nostro gufetto è un'idea simpatica per, eh, bomboniere, insomma, come vi dicevo prima. Allora, il costo, vi dico il prezzo, il gufo brillante viene 5€ e abbiamo fatto la colorazione azzurro, questo è un feltro azzurro elba, il celeste, il rosa, il rosso abbinato al corallo, il fucsia e il verde. Anche qui i vari tipi di feltro o in questo caso moddi, come in questo caso li abbiamo abbinati al nostro feltro brillante. Sempre, eh, gufetto abbiamo fatto anche la versione laurea, che è questo. Quindi il gufetto rosso, con il feltro modellabile rosso abbinato al feltro brillante rosso e lui ovviamente ha il suo cappello da laureato con la nappina, insomma, il tocco della, della laurea. Viene 5,50 il kit e questo l'abbiamo fatto nella versione rossa. Allora, altro, eh, progetto per la laurea è il cappello, eh, il cappello che contiene, vedete, contiene il, eh, sacchettino dei confetti, sopra abbiamo fatto la pergamena sempre realizzata con il feltro modellabile panna che poi abbiamo sbruciacchiato e poi abbiamo decorato il, eh, la, pergamena con le calle, due piccole calle. Il costo del cappello è di, ehm, è di, 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 cappello laurea 2,60, ok? Quindi questo viene 2,60, si parla sempre di materiale e carta modello. Il, eh, il caso della bustina invece, la bustina sempre per la laurea, la bustina vi arriva già fustellata, quindi voi dovete semplicemente incollarla o cuscirla sui lati, trovate già il tutorial caricato sul canale YouTube e, eh, dovete fare solamente il cappello, quindi anche questa è una bomboniera molto, molto veloce da realizzare e il costo della bustina laurea è di 3 euro. Vi dico anche i costi così, eh, poi comunque trovate tutto sul, eh, sul sito, eh, sul nostro sito. Allora, poi, altro bomboniera che è bellina per tutte le occasioni, questa anche come, eh, piccolo regalo, questa va bene anche per un matrimonio, va bene per un, eh, nozze d'oro, nozze d'argento, va bene in tantissime occasioni. Allora, il costo del cactus è di 3,50 euro, è un vasino, eh, un secchiello di metallo dove noi abbiamo fatto questo cactus con i suoi fiorellini. Anche qui il fiore, questo fiore qui verde con il fiorellino lilla o del colore che volete, insomma, al limite ce lo specificate, vi arrivano già fustellati. Voi dovete fare il cactus e questa pianta grassa qua, ok? Quindi questo 3,50 euro. Poi, altro progetto molto bellino che, come ci dicevano le bimbe, può essere anche, ad esempio, un fuori porta per la cameretta perché è piuttosto grande, sono le mongolfiere. Le mongolfiere che vengono 4 euro, il kit viene 4 euro e sono 15 centimetri di altezza e le abbiamo fatte nei colori arancio, quindi l'arancio abbinato al giallo, il verde, il lilla, il rosa, classici rosa e celeste, ovviamente, insomma, per le nascite, per chi ama, insomma, chi vuole i colori tradizionali. Quindi la mongolfiera 4 euro. Poi abbiamo fatto anche le bustine debore. Le bustine vi arriva già tutto fustellato, escluso il zepalo. Voi dovete solamente montare i fiori, anche di questo abbiamo già fatto il tutorial, montare i fiori e incollarli alla bustina, anche questa semplicemente da incollare o da cucire. Il costo della bustina è di 3 euro e questa l'abbiamo fatta in vari colori. Poi, ripeto, questi fiori potete anche decidere di farli di altri colori rispetto a quelli che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo fatto il rosso, il giallo, il giallo, il rosa, eccolo qua, questo ha perso anche i confetti, qualcuno l'ha mangiato, il rosa e il melanzana, questo è, e il melanzana. Comunque, vi ripeto, colori qui ne potete scegliere poi quelli che volete. Anche questo come idee molto veloce e anche piuttosto economica, viene 3 euro. Abbiamo fatto anche la versione oro e argento, ci avete chiesto anche di fare qualcosa per i venticinquesimo e le nozze d'argento e le nozze d'oro, quindi può essere molto bellino anche la bustina fatta con il feltro brillante oro e il feltro brillante argento. Viene sempre 3 euro, qui i fiori li abbiamo fatti neutri, in modo che con l'oro e l'argento stanno bene come contrasto. Allora, poi, si passa alle sempre 3 euro, l'ho detto il prezzo, sì, si passa alle farfalle. Le farfalle che vi sono piaciute tantissimo, abbiamo pensato di fare delle farfalle chiudi pacco, quindi anche in questo caso vanno benissimo per qualsiasi cerimonia. I colori abbiamo fatto sia la farfalla con il devore, quindi con il feltro devore lavorato, i colori, anche questa vi arriva fustellata, sia la farfalla che il fiorellini, dovete solo ritagliare il zepalo. La farfalla viene 3,80 euro, i colori sono il giallo con il tessuto devore, il rosa. Vabbè, poi sono infiniti. Sì, comunque quelli che abbiamo fatto per farvi vedere, ovviamente, un esempio. Noi abbiamo fatto il lilla, questi tre colori, ci può essere anche il rosso, ora vi faccio vedere anche le altre varianti. Però, insomma, ci possono essere anche a tutti i colori del pannolenci. Allora, la farfalla l'abbiamo fatta anche nella versione oro e argento, sempre per la cerimonia nozze d'oro e nozze d'argento. Poi comunque rimangono dei decori, potete appenderli anche per decorare, ad esempio, possono essere dei chiudipacco. Questi sono molto bellini anche come segnaposto, oltre che come bomboniere. Allora, di questa versione glitter abbiamo fatto anche gli altri colori. Vedete l'esempio con il feltro brillante? Abbiamo pensato di farle anche negli altri colori, quindi il verde, il celeste, il rosso, l'arancio e il rosa. Quindi questa è proprio la gamma di tutti i feltri brillanti che abbiamo. E anche nella versione pizzo panna e spritz panna e spritz rosa. Anche questo molto bellino. I fiorellini li abbiamo lasciati neutri perché, come vedete, sul glitter, sul brillante sta bene il neutro, però anche qui, volendo, potete decidere di mettere un colore che più vi piace. Allora, scatolina dei girasoli, col girasole, anche questa molto bellina e anche questa diciamo che va bene anche per matrimonio. Ed è la scatolina di legno che è 10x6 la misura. Dentro metterete il sacchettino con i confetti e sopra è decorata con il girasole e due bacchette di cannella. Quindi anche questo è molto simpatico come idea per le bomboniere. Il girasole, questa piuta che fa da decoro e il costo della scatolina è di 5 euro. Quindi la scatolina dei girasoli 5 euro. Poi più erate per il battesimo abbiamo fatto le scarpine. Le scarpine nella versione anche qui potete scegliere tutti i colori del feltro brillante che sono questi che abbiamo fatto anche per le farfalle. Quindi abbiamo comunque fatto il campione del celeste rosa e verde. La scarpina viene 4 euro. Allora cosa c'è rimasto? C'è rimasta bomboniera. Bambolina bomboniera. Allora bambolina bomboniera è questa qua. È una bambolina alla pancina di vari colori. Quindi la potete avere sempre in tutti i colori del pannolenci. Viene 7 euro. Questa può essere anche proprio un piccolo regalo se volete fare un pensierino. Dentro potete metterci la lavanda, delle perle profumate, del purpurri. Insomma può essere anche diventare un profumo a biancheria. Qui i colori sono il panna, il neutro, il verde mela, il rosa. Abbiamo fatto il fucsia. Rosa fluo. Il giallo e il lilla. Allora la bambolina bomboniera è completa. Il kit è completo di carta modello. La faccina è già dipinta. È una faccina di 5. Voi dovete fare l'acconciatura e poi fare i fiorellini che ritaglierete sul pannolenci tramite il cartamodello. Ok? Quindi io mi sembra di avervi detto tutto. Questa è quindi la collezione che trovate già caricata sul sito delle bomboniere. Quindi chi di voi ha bisogno di avere deve deve comunque fare delle cose delle bomboniere per una cerimonia può attingere da queste idee. Se avete bisogno di modificare dei colori non ci sono problemi ci contattate. I nostri riferimenti sono 345 4273 111 il numero di whatsapp oppure sul sito dove trovate anche tutti i prezzi e tutti i vari colori disponibili www.merceria-creativa.com è il nostro sito. Ok? Quindi date un occhio. Questo è il video che carichiamo quindi te lo trovate su YouTube e vi saluto e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao bimbe. Ciao ciao.